Oh, provenite dal primo canale probabilmente, o già eravate qua sul secondo, vi do un benvenuto gigante su questo mio secondo canale Sì, lo so, le miniature non sono fatte ad hoc, ma appena vedo che incomincio a guadagnare qualche cosa anche su questo canale Li rinvesto e prenderò un grafico che ci farà le miniature Promesso, lo prometto! Quindi un bel pollicino in su, iscrivetevi al canale Attivate la campanellina per le notifiche, per tutte quante le notifiche, perché vedete che su questo canale ci si diverte anche qua Siamo su Clash of Clans, ma io non ho finito di scioppare, ve l'avevo promesso Perché, signori, io devo andare a scioppicchiare un po' di robetta E voglio vedere insieme a voi che cosa... Uh, Red Golem è tutta la vita! Oh mio Dio, il Red Golem, quanto può essere bello! Regà, non mi dispiace, io non resisto Il Red Golem deve essere il nostro No, no, Red Golem Deve essere il nostro, non resisto, mi sento male Regà, no, 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 è bellissimo No, Red Golem è tutta la vita, non l'avevo visto Andiamo a vedere la principessa Allora, a me, I Love the Queen, mi piace moltissimo quella pirata Se non dico cavolate C'è anche la regina campionessa che non è brutta Però, vabbè, non è quello che costa 12 euro, c'è chi se ne frega E che non mi fa tantissimo impazzire Io ho visto, eccola qua, la regina pirata che mi dà molto di simpatico Anche se, in realtà, c'è di meglio C'è anche regina dell'autunno, che è molto bella Mmm, o la regina campionessa Certo che, secondo me, voi sareste contenti Se io prendessi la regina campionessa Io ho sto dubbio qua E che fai? Non ti prendi la regina campionessa? Eh, te la prendi per forza, regà Poi ditemi che non vi voglio bene Cioè, dovete avere il coraggio di dirmi Che non vi voglio bene Guarda, a schiaffi, a schiaffi I social non mi interessano Allora, qui avete visto sul video, sul primo canale Quello che abbiamo fatto Abbiamo potenziato un botto di mura Abbiamo cambiato il TH Regà, praticamente, col vostro dispositivo Andate a cercare TH7 Clash of Clans Ci sono, fate copia link Lui vi apre direttamente Clash of Clans e ve lo salva Ho preso questo, che secondo me Mi pare molto molto buono Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo mio TH Come vedete È più o meno fatto Per ricevere una stella E non far sì che sui depositi Ci arrivi troppa roba Mi sembra un po' una roba un po' così Anche vero che Un attacco di mastino lavico Ci potrebbe dare dei problemi Ma Diciamo che mi sembra un buon compromesso Per salvaguardare le nostre risorse Poi magari Mano a mano lo andiamo a cambiare Non ci sono problemi Mi sto potenziando tantissimo I campi Gli accampamenti, praticamente Perché ne ho potenziati due Se non erro Cioè li sto potenziando due E qui ce n'è un altro Che va migliorato E qui va migliorato Cioè in realtà, raga Stiamo veramente messi male con gli accampamenti In realtà li potremmo anche scioppazzare Vabbè dai, per festeggiare E non si dica che E non si dica che Non stiamo qui a festeggiare Raga Ok Sentite Chi se ne frega anche Chi se ne frega Ho detto oggi festeggiamo Oggi festeggiamo Oggi è così, raga Oggi stiamo spendendo un sacco di risorse Ma a noi va bene così A destra velocemente Io però avevo fatto Aspetta però, modifica È vero Perché adesso noi possiamo mettere Eventualmente Due mongolfiere in più Che sono tanta roba Io per il momento salvo così Mi sa che ho fatto una cavolata Sapete perché Ho fatto una Esatto Perfetto Facciamo così Così io Penso di avere adesso Il Allora fermi un attimo Perché 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 Vi dico io che c'è Allora io devo togliere tutto questo In questo momento Via 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 A destra incantesimi Via 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 A destra velocemente Ok questo è l'esercito quello giusto In questo momento Magari era lo stesso così di prima Chi se ne frega Possiamo fare un attacco Possiamo fare un attacco Perché C'avevo paura Eh ragazzi ma Io Io Non so oggi che cosa c'è Volano butto a sinistra Volano butto a destra Quindi se io vado dritto O vado da sopra Vado ad acchiappare tutto quello che devo acchiappare Quindi Facciamo Ta 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 E Ta 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 Andiamo a fare così Andiamo a fare così Tiriamo lui Tiriamo una cura in predict Da queste parti qua Che secondo me ci ha avuto anche senso Andiamo a fare così E andiamo a tirare proprio una Di queste belle Anche se mi sembra un po' ostica Come Come partita Io andrei a Far incavolare tutti Perché mi devono prendere i mastini Cioè è fondamentale che qualcuno Se la vada a prendere con i miei mastini lapici Raga mi sembra anche questo Un ottimo attacco Anzi Madonna mia Raga quanto è bello Raga Oh è troppo bello Raga No è un gigante È gigantropico Non ho resistito Non ho resistito È troppo bello Quindi in realtà Raga mi sembra che l'attacco Sia andato Oltremodo bene Spero che questi investimenti Che sto facendo Perché effettivamente Sono investimenti Spero che vi facciano piacere E vi fanno capire Quanto io in realtà ci tengo Che se vedo il vostro supporto Raga Vado a cannone Non penso che questo Gioco Clash of Clans Lo sposteremo sul primo canale Non credo Perché poi dipende Quello che sta succedendo In questo momento Sul primo canale Tra l'altro sapete Vorrei entrare nel clan Di Grax Glielo devo ancora chiedere Quindi magari Non ci hanno posto O magari no Minchia Tre massi di lavici Ancora vivi Mi sembra Un po' Too much Comunque stiamo farmando Davvero 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 bene Ma il problema Non è il primo Villaggio Il problema Non è il primo villaggio Perché il primo villaggio Riusciamo bene Il problema vero È il secondo Anche vero che Un pochino ieri Ci ho giocato In realtà Non un pochino Ci ho giocato tanto Ho fatto qualche vittoria Non male Non male Non male Vi devo dire Non male Ora Dovremmo puntare A fare Sicuramente Il centrale Quindi Quindi Non è Facile Non è facile Quindi andiamo a fare così E Andiamo a fare così Andiamo a fare Di questo Perché Ovviamente Io ho paura Io devo fare Più punti Possibili Regà Cioè Veramente Devo fare Più roba Possibile Ok Sto cercando Di fare Più punti Possibili Ma Secondo me Non è andata Come dovrebbe andare Io ve lo dico Io trovo Delle difficoltà Ad attaccare In Con Con Questa tematica Veramente enorme Regà Perché poi ci sono i mortai Che mi fanno un male Eclatante Ora Questa situazione Non mi dispiace tantissimo Perché dovrei riuscire A farmi il municipio Non credo che Riesco a fare L'altra stella Però il municipio Ci dovrei riuscire L'altra stella Ce sto molto vicino No Ma mortaio Ma fatti gli affari tuoi Non ci posso credere Let's go Ragazzi 50% 2 Mi sembra Molto molto buono Guardate che dai primi attacchi Che facevo Mi sembra molto molto buono Il problema è che Il mio municipio Regà Vedete Purtroppo Mi attacca gente Con livello 10 Allora Se mi attaccano persone Con livello 10 Capite che Effettivamente Io non vi posso Fare niente Eh Sto un po' Inguagliato Facendo così Anche perché poi Ho tutte le mie Povere strutture Cioè Tutte le mie povere Mura Che sono veramente Bassissime Sono bassissime Lui continua a curarsi A fare abilità E io non riesco A vincerla Cioè regà ma Però non dipende Tanto da me Eppure il match up Che è veramente Leggermente Ridicolo Leggermente Ridicolo Andiamo all'attacco Di nuovo Andiamo all'attacco Di nuovo Possiamo più o meno Fare una cosa Come prima Possiamo Eventualmente Mettere loro Anche se ce l'ho Un po' Bassi Andiamo a fare così Andiamo a fare così Aspettiamo un attimo Che loro Puliscono Vado a fare così Vediamo un po' Eh Lui non mi doveva Girare però Lui non mi doveva Girare Raga Lui non mi doveva Girare Ragazzi Porca miseria Quanto sono Schiarzo Sono veramente Schiarzo Raga Posso dire Diciamolo Dai Secondo me Si può dire C'è qualche struttura Fuori No Non c'è nessuna Struttura fuori Secondo me Due di qua Li possiamo anche mettere Se siamo un po' Fortunati Ma non credo E infatti no Raga poi mi faccio Prendere da 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 ste cose qua Non ce la faccio Ma davvero Raga Io ci sto provando A cercare di capire Come attaccare al meglio Ma ho fatto un 45% Davvero pessimo Però Secondo me Raga Perché loro sono troppo Più forti Guarda vi faccio vedere Che pure questo Mi starà annientando Raga Cioè no Non mi ha annientato Perché non mi ha annientato Ma con me entrano Veramente facili Infatti Io aspetto consigli Perché veramente Ho delle difficoltà Mostruose Ho delle difficoltà Mostruose Veramente Non sto scherzando Veramente Ho Un botto di difficoltà Io dovrei andare Anche più veloce Ma con che Con che vado Cioè con Con che vado Scusatemi eh Non vado con niente Allora puliamo qua Vado a fare così Vado a tirare anche questi Vado a tirare questo qua Eh raga Io Vese po' vuole bene Quanto vi pare Ma Non so perché Mi sta andando lì Ma comunque Penso che questo gioco Sia fatto apposta Per farmi crepare Assolutamente Perché se no Non ha Non ha molto senso Dai potevano andare ovunque Il punto debole è quello E c'era la bomba Eppure questo raga Sembra un buon attacco Ma in realtà È un attacco pessimo È veramente Un attacco pessimo Questo qua raga Perché non sono riuscito A entrare là dentro Per diverse Problematiche E Non riuscirò a fare Praticamente niente Allora sto facendo Una bruttissima figura Con voi Me ne rendo conto Cioè è veramente Orribile Pure quelli ce l'ho Piccoli raga 39% Ma non gliela fo Raga Non gliela fo Sono troppo alti Per me Eh 40 Minchia però pure Lui ha fatto il 42% Allora Adesso diciamoci la verità Eeeh Attacco sopra Attacco sopra Lasciamo così Lasciamo così Lasciamo così Andiamo qua Ho un po' allargato Cerchiamo di Far entrare Dentro lui Cioè almeno Ci proviamo Secondo me Uno qua Va bene E vado a tirare Anche loro dietro Come supporto Peccato che non c'è Tipo la curatrice Ah Non Qui è stato Un mio errore Qui è stato sicuramente Un mio errore 100% Ci sono delle persone Che stanno Andando da una parte Ci sono altre persone Che stanno andando In un'altra parte Appena questi romperanno Io ho perso Cioè proprio le dinamiche Su questo gioco Mi mancano Cioè Eppure l'altro giorno Stavo attaccando Molto molto bene Pure qua Mi devo Mi devo un attimo Mi ci devo mettere Perché guardate Le pizze Che prendo E forse Forse No Questo mi è entrato Praticamente centrale Ragazzi E va bene Dai Anche l'abilità A posto così Raga Poi la cosa brutta È che bisogna aspettare Gli altri Che finiscono Questa è una cosa Che mi trigger Ronevolmente Io dovrei portare Lui Sentite Sentite Mi sono rotto Raga Basta Scioppiamo anche qua Perché io non posso Non posso Continuare così Assolutamente Allora Il muro no Muro no Miglioramento di gemme Pedardi Doppio cannone Sentite Io Migliorerei anche Ma per forza Raga Non è che Raga Lo devo fare per forza Vai Torre dell'orologio Potenzia E tanto abbiamo speso Sul primo Spendiamo anche sul secondo Ragazzi Perché se no Raga È un macello Ma questo sta ancora qui Cioè Ma non te sei Rotto Dai Enzi Ti prego Ma stai facendo Sul serio Ma anche noi Abbiamo da fare Vabbè Raga Lui Se sta a fa tutto Il villaggio Tipo se Vuole vincere per forza A tutti i costi Qui C'ho i potenziamenti C'ho tante cosette Belle A destra Tuppe A destra Velocemente Perché se no Mi dimentico Ah Siamo pieni Possiamo fare un attacco Il quale Mentre quell'altro Ci sta praticamente Distruggendo il villaggio Con una pezzetta E questo Già incomincia A essere un pochino Più sgravo Volano che va su Volano che va giù Io attacco da sinistra Però questo È molto potenziato Questo qua Rischiamo Di non farcela Però secondo me Pure il non farcela Ci sta bene Ah però attenzione Aspetta 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 C'ha Eh no 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 Allora noi facciamo Così 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 Perché ho notato Adesso Ho notato Adesso Che lui C'ha Una torre Difensiva La sta sistemando Quindi noi facciamo Così Sarà sicuramente Un problema Eliminare Quel drago Sicuramente Al 100% A meno che I miei pisellini Qui non Fanno una strage Ma Il drago del clan Raga è Incredibilmente Forte Guardate che Tra l'altro Lui Quanta roba Mi ha tirato Vabbè Diciamo che Me lo potevo aspettare L'attacco Non mi sembra Bruttissimo Non credo Che riusciremo A fare Il 50% Non credo E anche se Eh no Eh no Perché No Niente 40% Qualcosa abbiamo rubicchiato Ma Niente No Stai fermo Stai fermo Addestra Velocemente E addestriamo Eh perché Quello c'era tanta roba Poi c'era la roba del clan Veramente un botto di roba Ce ne andiamo di qua Minchia Forse pure un po' troppo Eh Proviamo a fare Bravo Andiamo mai Per favore Ok E questo sicuramente Sarà Uno che andremo A distruggere Ho questa 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 Allora Ha una struttura Fuori Che io mi posso fare Decisamente Così Andiamo a Toglierci Questa Toglierci Questa Andiamo qua Ok Facciamo così Facciamo così Io penso Che il potenziamento Non vada tirato Subito Non credo Non credo Che mi vada a curare Le truppe vicine Non 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 penso Quindi finché Veramente Non stiamo Con le pezze Tipo Adesso Io faccio così Non so se Potenzia anche Le mie truppe vicine In realtà Sarebbe fantastico Ma non lo farà mai Purtroppo Perché Per poco Posso dire Per poco Il cannone Non so quanto sia utile Sapete 55% Comunque faccio sempre Un po' Oh però 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 Una piccola Piccolissima soddisfazione Signori Vi voglio bene Ci vediamo Tra l'altro Come avevo detto Ho portato la macchina Da guerra Di livello 5 E abbiamo scioppazzato Un botto Quindi 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 Se io vi faccio Quanto è Quanto è Ciotto Porca miseria Bella regà Che vediamo